perché mentre eravamo ancora senza forza Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Il suono dell'esplosione fu terrificante poi arrivarono le urla l'orrore e il sangue. Il sergente Salzman si guardò intorno il pericolo era passato ma l'esplosione aveva lasciato quattro soldati morti. Lui era vivo ma con sua grande disperazione notò che il suo braccio destro era sparito e il sangue sgorgava come un torrente. Settimane dopo davanti allo specchio a muro dell'ospedale militare cominciò a capire la sua condizione. Avrebbe dovuto imparare a vestirsi da solo, lavarsi i denti e la faccia con la protesi del braccio che gli era stata appena applicata. Aveva voglia di piangere non a causa della protesi ma perché era vivo e aveva perso quel braccio combattendo per il suo paese nella guerra in Iraq e sapeva che la vita in qualsiasi forma era un motivo per ringraziare Dio. La vita è degna di essere vissuta. Senza braccia né gambe la vita continua ad essere vita quando la speranza batte nel cuore. E la speranza non è un atteggiamento mentale. Ci sono persone che per quanti esercizi di pensiero positivo facciano finiscono nella follia, nella disperazione e nella morte perché non riescono a vivere con la loro nuova realtà dopo un incidente. La vera fonte di speranza è Gesù che ti mostra una dimensione sconosciuta della vita. Il testo di oggi dice che anche se eravamo deboli Gesù è morto per noi. Ma chi eravamo? Cosa avevamo fatto per meritare il sacrificio supremo di Gesù? Non eravamo niente, eravamo peccatori, dice Paolo. Avevamo scelto le nostre strade ma Dio ci ha amato al punto di dare la vita preziosa di suo figlio per salvarci. Può non esserci il sole ma la speranza cristiana ti dà la convinzione che il sole splende sopra le nuvole. Cristo si è assunto la tua colpa, ha pagato il suo prezzo sulla croce e ti ha dato il diritto di guardare l'orizzonte di una nuova vita indipendentemente dalla situazione in cui ti trovi. Inizia questo nuovo giorno sapendo che da oggi in poi hai l'opportunità di scrivere una nuova storia. Togliti dalla testa l'idea pessimistica che niente sarà più come prima. Non è necessario che lo sia. Quello che è successo è successo. Osa scrivere una nuova storia ricordando sempre che mentre eravamo ancora senza forza Cristo a suo tempo è morto per i tempi. Che Dio ti benedica e buona giornata.